Quello che vedete ragazzi sotto il cofano è il nuovo motore PureTech 1200 da 136 cavalli, ibrido mild, un pochino più che mild. Sì, questa qui naturalmente ragazzi è la Citroen C5 Aircross e finalmente arriva con questa motorizzazione che abbiamo già conosciuto in realtà su altri modelli del gruppo PSA, ex PSA, oggi Stellantis, naturalmente scusate la forza dell'abitudine, ma che finalmente raggiunge anche la Citroen C5 Aircross perché può avere davvero delle grandi potenzialità lato vendita per un marchio come Citroen che ha una filosofia progettuale e un'intenzione di vendita a una clientela diversa secondo me rispetto a Peugeot e quindi questo motore ancora più che su Peugeot per dire farà effettivamente un grande successo, perciò diciamo che per adesso, adesso cerco di chiudere il cofano senza diventare scemo e senza ammazzarmi, proviamoci, eccoci qua, perfetto, proprio ciò che, perfetto, vi faccio rivedere al volo la Citroen C5 Aircross che in realtà già conosciamo, si è aggiornata molto molto di recente, parliamo di una vettura lunga 4 metri e 50 spaccati per una larghezza di circa 1 metro e 86 e un'altezza di 1 metro e 69, un passo di 2 metri e 73, quindi dimensioni generose ma non esagerate tutto sommato, comunque parliamo di una C5 ragazzi, non è una C3, ecco, perciò uno, diciamo, degli ingombri non troppo esagerati ma che comunque garantisce un ottimo spazio all'interno, ve lo faccio vedere anche tra pochissimo, vi faccio giusto rivedere al volo due o tre dettagli stilicici che la distinguono dalla versione pre-restyling, cioè questa calandra anteriore con il logo Citroen che continua con queste due strisce cromate agli stelli verticali fino ad unirsi al faro che prosegue le stesse linee qui sul fianco, così come il paraurti ridisegnato in generale con la calandra inferiore anche dal disegno nuovo, dei cerchi in lega con disegno naturalmente anche qui nuovo e secondo me anche piuttosto interessante, in questo caso montati su gomme Michelin e Primacy, quindi fatte appositamente per auto elettriche, devo dire non male ma il fatto che sia per auto elettriche anche se questa auto ibrida in realtà non è tanto per l'auto elettriche, ovviamente quando mi riferisco alle auto elettriche specificamente perché in genere si parla di efficienza e autonomia, quindi molti potrebbero dire giustamente perché scusa sull'auto benzina non vogliamo consumare meno, esatto ed ecco perché ci siamo qui con delle Michelin e Primacy come primo equipaggiamento, queste gomme sono delle 225 spalla 55 e cerchio da 18 pollici, 5 razze, fa assolutamente bene il suo dovere e abbiamo anche una spalla molto generosa per migliorare naturalmente il comfort di marcia, ma di questo ne parliamo tra pochissimo, qui dietro anche si è aggiornata con il restyling che abbiamo già conosciuto comunque nel disegno del faro che ora è a singolo bulbo al centro e doppio bulbo invece sul fianco, quello non compreso dal bagagliaio per capirci, che sono naturalmente a led e sono anche diciamo in tridimensione perché vengono proprio all'infuori e danno una linea un pochino più muscolosa alla parte posteriore della vettura, sicuramente non male, un'auto come vi dicevo molto molto spaziosa, perfetto adesso appena riesco ad aprire il bagagliaio, perfetto che c'è qua, portellone automatizzato, c'è un po' di zaini ma va bene lo stesso, capacità minima del bagagliaio di 580 litri ma i tre sedili che sono divisi direi 33-33-33 in realtà, i tre sedili divisi singolarmente possono avanzare e questo permette di arrivare se mi ricordo giusto a circa 700 litri, altrimenti si possono direttamente ripiegare e arrivare fino a 1600 e forse 1700 litri di capacità, quindi uno spazio enorme e gigantesco, abbiamo anche una presa 12 volte, una luce di cortesia, quindi c'è praticamente tutto quello che può servire, qui sotto abbiamo un vano per andare a mettere la ruota di scorta, quindi sicuramente non è male, oppure, allora questo non lo dovrei dire però nel senso perché giustamente la garanzia non importa, comunque lì tecnicamente sembrerebbe anche poterci stare un bombolone del GPL, poi ognuno farà le sue considerazioni, però comunque c'è spazio per la ruota di scorta, quindi molto molto bene, la solida accesso è anche molto bassa e con lo scalino molto ridotto, per quanto riguarda lo spazio posteriore entro da questo lato anziché dall'altro come faccio di solito, ma va bene, poi così mi sposto e va bene, lo stesso dai ci sta un botto, eccoci qui, allora la prima cosa che noterete sedendovi qui dietro ovviamente è la morbidezza del sedile, infatti Citroen ha lavorato molto sul sistema Advanced Comfort di questa vettura migliorando l'imbottitura e aggiungendone il 15%, quindi i sedili sono davvero molto molto ben imbottiti e molto molto comodi, sono anche ben profilati compreso quello al centro, quindi praticamente nessuno qui sarà sacrificato e si sta veramente molto bene, si è seduti molto in alto qui dietro, c'è spazio per le ginocchia anche col sedile guida regolato sulla mia altezza di circa 1,90m, vedete perché il sedile è incavato quindi c'è spazio, per i piedi anche non c'è male nonostante là sotto ci sia la batteria del sistema Ibrido Mild a 48V, quindi in realtà di spazio ce n'è più che a sufficienza, molto bene e qua sopra anche nonostante il tetto in vetro eccetera, ho ancora qualche centimetro per la destra, quindi ottimo lavoro Citroen davvero, è una cosa che avevo già apprezzato quando provai questa macchina la prima volta e continua a piacermi molto, ma anche al centro vi dicevo che il sedile è ben profilato, certo si sta un pochino meglio sui fianchi, ovvio perché c'è spazio per le spalle eccetera, però nel complesso il sedile è ben profilato e si sta molto molto bene anche qui, spazio per le ginocchia qui c'è anche, per i piedi siamo al pelo, io porto il 44,5-45 siamo lì lì e le guidi dei sedili le sfioro appena, quindi ci stiamo diciamo così e anche qui invece il tetto in vetro ci dà un grosso vantaggio perché mi dà un bel po' di aria per la testa, ottimo lavoro Citroen davvero, due bocate del clima, una presa usb normale non di tipo c là sotto, quindi retroilluminata anche sembrerebbe sì, quindi ottimo lavoro, sicuramente qui dietro non si sta male, oh attenzione, anche le maniglie per tenersi, roba sempre più rara ormai sulle vetture moderne, quindi ottimo lavoro Citroen, l'unica cosa che notavo che non mi ha fatto impazzire è il fatto che il bagagliaio quando è tutto aperto è un po' basso, allora è vero che io sono un po' alto, siamo d'accordo, però effettivamente questo potrebbe farmi molto male se non dovesse accorgermene, però questo è un dettaglio se vogliamo insomma, passiamo invece all'anteriore, anche qui l'avevamo già vista ma ve la faccio rivedere, l'interno si è aggiornato con una nuova disposizione della tecnologia interna, la plancia qui è molto molto pulita con il cambio shift by wire direttamente qui integrato nel tunnel centrale e una ricarica induzione là sotto, più due prese usb e una 12 volt laggiù in fondo, mentre qui al centro, adesso lo schermo sarà spento, acceso, vediamo, adesso provo a spegnere e riaccendere la vettura, abbiamo qui uno schermo da 10 pollici per il sistema di infotelematica, una grafica se vogliamo non proprio all'avanguardia sinceramente, però diciamo che fa il suo dovere tutto sommato, e invece qui abbiamo uno schermo da 12,3 pollici davanti al conducente per tutte le informazioni di guida, peccato solo che non ci sia il contagiri, questo mi dà un po' di fastidio visto che comunque è un'auto termica con la possibilità anche di andare in cambio manuale, quindi non c'è il contagiri, un piccolo peccato ma nel complesso questa macchina è stata pensata davvero bene, devo dire ragazzi che quando l'ho vista la prima volta mi stava piacendo e anche in questo caso continua a essere una conferma per quanto mi riguarda lato filosofia progettuale, però torniamo a noi, non siamo qui per la macchina in sé, nel senso per la nuova C5 Aircross, ma siamo qui per quello che si trova sotto al cofano, c'è questo nuovo sistema ibrido che già conosciamo ma che arriva per la prima volta anche su C5 Aircross, quindi andiamo al volante, facciamoci un bel giro su strada e vediamo come va la C5 Aircross con il sistema Hybrid 136. Bene ragazzi, eccoci al volante della Citroen C5 Aircross Hybrid 136, dove come avevo già anticipato la sigla Hybrid sta per l'essere un ibrido che non è mild ma non è full, è una via di mezzo perché la batteria che si trova qui sotto di me è da 0,43 kWh di capacità, quindi grandicella per essere un mild hybrid ma ancora non paragonabile a quelle dei full hybrid. Questo sistema middle hybrid, chiamatelo come volete, si basa sull'unione di un motore termico, il 1200 PureTech tre cilindri che già conosciamo, abbinato a un motore elettrico che da solo è capace di 21 kW e 55 Nm di coppia, se mi ricordo giusto, che è integrato direttamente nel cambio a sei rapporti che si chiama EDCS6, Dual Clutch System credo, a sei rapporti. Lì dentro c'è integrato il motore elettrico e questo gli dà una mano, diciamo in collaborazione con il motore termico per dare un po' più di spunto al motore termico, oppure è anche capace di muovere non solo i sistemi di bordo come fa di solito un belt starter generator tipicamente mild hybrid, ma anche di dare effettivamente potenza alle ruote anche solo in elettrico, magari in fase di rilascio o per mantenere la velocità costante. Bene, questo sistema in realtà lo trovo molto equilibrato perché effettivamente risponde a un'esigenza molto interessante, cioè quelli che dicono io magari vivevo di motore a gasolio, non mi va di andare su un motore plug-in banalmente perché magari può costare troppo da comprare, può essere qualunque cosa alla motivazione e quindi si ha a disposizione questo sistema che permette a un motore benzina come il PureTech di andare ad efficienze molto molto superiori. Nel complesso la macchina si guida molto bene secondo me, diciamo che non è un'auto da prestazione elevate, ovviamente no, ma non è questa la filosofia, perciò va benissimo così, siamo su una potenza complessiva, come dice il nome, di 136 cavalli totali e secondo me vanno più che bene perché se vado ad accelerare, subito dopo questa rotonda vado ad accelerare un pochino per sentire come si comporta, riesco a percepire lo spunto dell'elettrico prima che sia pronto il motore termico e questo non è male e questo fa non solo una prestazione migliore, ma anche una risposta migliore sul pedale dell'acceleratore rispetto a quello che farebbe il motore termico da solo con il cambio a sei rapporti in dotazione. Nel complesso quindi mi sta piacendo, c'è anche la possibilità di andare con la modalità manuale e sì ma anche no, nel senso che le palette tra l'altro sono bene perché sono fissate sul piantone, non seguono lo sterzo quindi sapete sempre dove saranno, ma non benissimo perché sono un po' di plasticaccia e soprattutto sono molto in dentro, cioè nel senso se io vado a cambiare marcia non ce l'ho comode qui sulle dita ma ce l'ho che devo allungarmi per prenderle, però diciamo che in realtà serve di più per andare a gestirsi la coppia non tanto per andare a divertirsi fra le curve sicuramente, perciò il loro dovere lo faranno molto bene sicuramente. Una cosa che però mi è piaciuta veramente tanto di questo sistema è che non è per niente ruvido, cioè se io mi vado a fermare qui alla rotonda e poi in riparto l'accensione del motore termico è quasi impercettibile e questo ragazzi devo dire è un gran bene perché non si percepisce, è molto molto silenzioso quando si viaggia a bassi regimi, poi certo che se si va ad accelerare si sente, peccato che non ci sia un contagiri perché così non capisco quando si è in modalità manuale quando è che devo cambiare marce e quindi capita che cambio io e cambia lei così ne cambiamo due, ottimo, però diciamo che per la filosofia per cui è stata pensata, cioè di essere ad alta efficienza e confortevole ci siamo assolutamente perché l'avvio del motore termico e l'inizio della sua funzionalità effettivamente è molto molto delicata nell'ingresso, è molto park, funziona bene. Per quanto riguarda i consumi ragazzi vi darò un dato giusto per parlare e per darvelo ecco perché ovviamente in questo tipo di prove non è facile con totti di chilometri riuscire a fare una prova effettivamente approfondita dei consumi, però nel complesso la media è di circa 6,5 litri per 100 chilometri che tutto sommato non è un valore negativo, anzi è molto interessante per il motore PureTech su un'auto che comunque non è proprio propriamente piccola, quindi in realtà è un risultato veramente buono e questo naturalmente grazie al fatto che questo motore secondo Citroen permette di andare per il 50% del tempo fino al 50% del tempo principalmente in contesti urbani in elettrico purché ci sia la batteria ovviamente carica e fra l'altro bene il fatto che ci sia sempre a disposizione qui una schermata sul cockpit che ti permette di vedere quale sistema sta lavorando, se stai rigenerando e se stai dando invece potenza a quale dei due motori sta dando potenza, quanta ciascuno, quindi molto bene perché si riesce a tenere sotto controllo tutto quanto e qui quindi direi che ci siamo. Poi seguiranno sicuramente prove più approfondite per questa motorizzazione quando potremo averla in prova diciamo per più tempo, però nel complesso sicuramente si percepisce un equilibrio molto interessante per una vettura come la C5 Aircross, vettura volta al comfort, molto morbida, saluta di guida giusta, molto elevata, sedile molto morbido, sospensioni molto molto morbide, il cui unico difetto secondo me, oltre al bagagliaio che secondo me si apre troppo poco, e allo schermo dell'infotainment che è un po' troppo lento ormai, non va bene che sia così lento, sono le telecamere a 360 gradi che bene, si sono a 360 gradi, ma che effettivamente hanno una qualità non proprio eccelsa, cioè la risoluzione non è proprio ottima, sono luminose, però non è veramente eccelsa la risoluzione, nonostante ciò lo apprezzo perché ti risolve un problema di angolo cieco là dietro che non è enorme, però comunque c'è, la macchina non è piccolissima, è compatta, 4,50 m si per il segmento che appartiene, ma non è piccolissima, quindi nel complesso una telecamera aiuta sicuramente, perciò nel complesso ragazzi ci siamo, questo sistema mi sta convincendo, spero di avere modo di provarlo presto, in modo più approfondito, in una prova un pochino più lunga, però per adesso mi siamo molto equilibrato, perciò possiamo scendere, tirare due conclusioni e parlare anche di prezzi. Bene ragazzi, direi che ci siamo fatti un'idea di come va questa vettura con questo motore, io la trovo veramente un'idea molto interessante perché è un ottimo equilibrio fra l'elettrificazione, più presente di un semplice sistema mildiabre da 12 volte che fa ridere, cioè proprio fa ridere, ma che comunque non costa troppo perché non ha una componente ibrida troppo grande e che comunque non va ad influire troppo sulla dinamica del veicolo come siamo abituati con il motore a combustione interna e quindi garantisce una riduzione, secondo Citroen, fino al 50% dell'utilizzo del motore a benzina, cioè lo ritraduco, significa che si può andare fino al 50% del tempo in elettrico, in città ovviamente, però effettivamente è un'ottima via di mezzo perché permette di raggiungere dei risultati veramente niente male. Per quanto riguarda i prezzi, visto che li ho accennati, parliamo di un listino che parte da circa 36.500 euro, se mi ricordo bene, comunque una cosa del genere, siamo sopra i 35.000 euro di poco. Un prezzo che ovviamente qualcuno stracerà il naso e dirà, è però la versione normale costa 29, vero, però la versione normale, normale inteso come motore a combustione classico, non ti permette di avere questi vantaggi anche lato consumi che dovrò mettere alla prova meglio perché ovviamente in una prova in anteprima, così non è facile avere veramente un'idea chiara di come vadano lato consumi su tutte le possibili circostanze in cui si può mettere alla prova una macchina, ma all'incirca su 6 litri per 100 km, 6-6,5, non è male, sicuramente con un motore 1200 PureTech a benzina, così, non è affatto male, quindi in realtà il vantaggio c'è, ovviamente è un vantaggio che si ammortizza col tempo e non subito, questa è l'idea di fondo, però fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di questa vettura, io la trovo molto equilibrata, ma sono curioso di sapere voi invece cosa ne pensiate qui sotto nei commenti come sempre e noi come sempre ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Automoto, ciao ciao!